Ciao, siamo Tiziana, Lucia e Chiara. Siamo lo staff della Zenaia dei Viaggi by Pinguino. Volevamo fare gli auguri a tutti i fanesi, a tutti i nostri clienti presenti e futuri. Volevamo ricordare a chi non ha ancora fatto nessun regalo che abbiamo diverse idee, cofanetti da mettere sotto l'albero per weekend romantici, per gite in Europa, anche in tutto il mondo, per tutte le tasche. Volevamo ricordare anche che facciamo dei viaggi di gruppo in partenza da Fano. Le prossime nostre mete saranno New York, Cambogia, crociere e tanti weekend. Buone feste! L'autocarrozzeria Trave auguro buone feste a tutti i suoi clienti. Buone feste! Ciao a tutti e colgo l'occasione per fare gli auguri a tutti di un buon Natale e di un felice anno nuovo. A tutti i fanesi e a tutti i nostri clienti. Qui al bonbon per queste vacanze di Natale vi vogliamo deliziare con dei panettoni classici con uvette e canditi, fino ad arrivare panettoni farciti col gelato, panettoni al gusto di gianduia e oltre le nostre classiche delizie che proponiamo per Natale. Inoltre, in occasione della vigilia, dove qui è un punto di ritrovo e spero che tutti i fanesi vengano per scambiarsi gli auguri, abbiamo fatto un panettone di 5 kg per tutta la gente che verrà a scambiarsi gli auguri. Grazie a tutti e buon Natale di nuovo! Auguri buon Natale a tutti da Tiziana Allora, io sono Marta, pasta fresca da Marta. Marta e tutte le sue donne qui. Rita, Roby, Mary, Silvia, Adriana. Vi facciamo un augurio grandissimo per il Santo Natale e tutte le feste. Venite a trovarci in tanti, tanto noi corriamo dalla mattina alla sera. Buone feste da tutti! La nuova Servicome Vi auguro buone feste e guidate con prudenza! Sempre! Amici di Oltrefano, siamo qui al New Life Café con il titolare Davide Novilini. Davide, ciao! Facciamo sti auguri, dai! Facciamo sti auguri di Natale. Va bene, Fede, facciamo subito. Allora, vogliamo cogliere l'occasione per fare gli auguri a tutti i nostri clienti e a tutti i nostri non-clienti. e da parte del nostro staff Federico Marchetti, ciao Davide Novilini, ciao a tutti. Niente, vogliamo ricordarvi che New Life Café rimane aperto per tutte le sere delle vacanze di Natale, soprattutto la festa di Natale del 25, grandi collaborazioni, e per finire questo anno il 31-12 al Calamara, dove costruiremo una festa fantastica, no? Nuova, mai vista Davide, mai vista diciamo, mai vista, quindi invitiamo tutti a partecipare, accogliamo l'occasione per rifarvi gli auguri, dal New Life Café Federico Marchetti, Davide Novilini, ciao!